Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su Monica Vlog. Allora, io stamani volevo registrare un video per il canale ASMR, ma ovviamente qua stanno continuando a fare i lavori, cioè quest'anno ragazzi, sia da mio marito che a casa mia è un delirio, stanno facendo lavori nella strada e quindi è un casino a tutte le ore del giorno. Avevo pensato ieri sera, ho detto vabbè, ero stanca morta, però ho detto vabbè, potrei registrare verso le 10. No, perché la sera ora c'è la mania di fare i fuochi d'artificio, non lo so, per qualsiasi cazzata, quindi già ieri sera tre volte i fuochi d'artificio, non si sa per quale, compleanno, non si sa per quali motivi. In più c'è la palestra qua e i campi sportivi, non lo so, un urlio fino a quasi a mezzanotte, non so se giocavano all'aperto, se giocavano sotto il tendone, non lo so. Quindi anche la sera dopo scena, cioè l'unica che registra la notte e io ho detto sapete che c'è niente video ASMR, amen. Ok, questo per quelli che mi seguono anche sul canale ASMR. E stamani è uguale, volevo registrare questo video che c'avevo l'idea di farlo, perché appena questi vanno un po' da pranzo guardo se lo registro, perché è un'idea carina secondo me. Ho detto vabbè, ormai ho allestito, ho montato tutto, le luci eccetera eccetera, che poi ora che mi rendo conto magari c'è bisogno di dare anche un'aggiustatina a queste luci, perché c'ho l'occhiaia qua che sembra la fossa ardiatina. E ho detto vabbè, ormai allora registro per il vlog, visto che c'ho una mezz'ora abbondante. Allora, di cosa voglio parlare? Voglio parlarvi dei regali di Natale, idee regalo. Allora, io regali di Natale praticamente non li faccio ragazzi, perché prima si facevano con la mamma, c'era la tradizione di scartarli alla vigilia, però la mamma, sì, ciao, ormai non si ricorda più neanche se è il compleanno, cioè proprio non si pone più il problema, quindi io e mio marito come sapete regali bene o male, ce li facciamo quando, così come capita, anche se magari il pensierino per Natale, cioè anche a me piace riceverlo e piace farlo, con le amiche non lo faccio più, quindi però so che molti invece amano fare regali di Natale, perché comunque è bello regalare, è bello anche ricevere, a me piace tanto ricevere regali, lo ammetto, ma mi piace anche farli quando posso. Poi uno smette perché quando il regalo diventa un obbligo della serie, io lo devo fare a te, te lo devi fare a me, cioè allora non ha più senso, no? Però mi piace sia farli che riceverli. Bon, quindi in questo video vi voglio dare un po' di deuzze, alcune anche di cose, diciamo, gratis, tra virgolette, altre cose invece ovviamente che li dovete comprare, e ovviamente vi metterò tutti i miei link affiliata, delle cose con cui ho l'affiliazione, quindi magari se voi avete in mente di comprare quell'oggetto e prima di comprarlo passate dal mio link, a me fate un favore perché vi hanno una piccolissima percentuale che non vi crediate che sia chissà cosa, però magari sono quei 20 euro ogni sei mesi che schifo non fanno. Ecco, questo per farvi capire il valore economico delle mie affiliazioni. Bene tesori, io intanto comincerei subito e partiamo con la... Allora, 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 cominciamo con le idee regalo. Guarda, vi voglio parlare subito di questi. Poi dopo, giù in descrizione, vi scrivo le cose, vi metto i link, eccetera, eccetera. Allora, questi sono gli orecchini che ormai è già un po' che me li vedete, che li fa Roberta, la mamma della mia amica Carlotta, e si chiama Il Segreto delle Rune. Allora, questi sono un'idea regalo stupenda, secondo me. Poi lei fa dei pacchettini regalo che sono un amore, ma veramente un amore, con cura, proprio con la carta bellina, cioè sono veramente un chicchino. Sono fatti con plastica riciclata, che lei ricicla, appunto, le rielabora, e poi ce n'ha di tanti modelli, c'ha gli orecchini, c'ha le collane, fa gli anelli, insomma, tutto comunque impostato. Se qualcosa di nuovo lo compra, è chiaro, questi qui non sono riciclati, però è tutto impostato, il suo lavoro, proprio sul riciclo di cose che altrimenti andrebbero nell'immondizia. Oppure anche cose create con materiale, per esempio fa gli anelli di bambù, è una specie di bambù ecologico, insomma, credo che sia fatto con materiale riciclato anche quello, quelli non ce l'ho. Però, ecco, vi dicevo, fa questi oggetti bellissimi, io ho sia questo paio qua, che l'altro paio più corti, oggi c'ho il maglioncino così, quindi me li sono messi, però questi sono molto adatti all'estate, mentre c'erano un paio un pochino più corti, che vanno bene anche magari l'inverno, che siamo un po' più con le sciarpotte, no? Quindi io ve la straconsiglio, ragazzi, vi lascio il link giù, comunque la trovate su Instagram, come il segreto delle rune tutto attaccato, la trovate su Etsy e anche su Vinted. Quindi, prima idea regalo, se volete fare un regalo originale, sono tutti pezzi unici, anche se questo modello ne ha fatti più di uno, ma non sono mai uno identico all'altro, proprio perché non è mai uguale. Quindi, ecco, questo ve lo straconsiglio, se volete fare un gioiello un po' particolare, un po' se amate appunto anche il concetto del riciclo, io vi consiglio di andare a vedere da lei. Rimaniamo sempre sul tema gioielli, Allora, io ho da poco l'affiliazione con Hey Happiness. Al momento non vi posso far vedere niente, perché l'oggetto che ho scelto non mi è ancora arrivato, però quando arriverà, poi ve lo mostrerò sicuramente in qualche video. Hey Happiness, che cos'ha di particolare? Che ogni gioiello venduto pianta un albero. Se andate sul sito, cioè fa vedere proprio tutto, è tutto documentato, tutto spiegato, quindi anche qui diciamo che c'è dietro un'idea carina, no? Oltre a vendere questi gioiellini, che io non sono un amante della bigiotteria, lo sapete, porto poche cose, infatti, anche lì su Hey Happiness, le cose che mi piacciono di più sono le collane, ma io non portando collane, quindi poi alla fine ho trovato quest'anello, che mi sembra veramente delizioso, un amore, e allora ho scelto quest'anello. Però dicevo, mi sembrano così a occhio di buona fattura, come anche Alessia, insomma, che le porta, dice, le porta queste collanine, non se le leva neanche per la doccia, non scoloriscono, insomma, sembra che siano di ottima qualità. Ora, quando arriverà l'anello, ve lo saprò dire, però ecco, ho avuto l'affiliazione anche con loro, quindi vi lascio giù, se volete andare a dare uno sguardo. Hanno delle cose molto fini, molto delicate, molto raffinate, come genere, come stile, ecco, questi sono molto vistosi, a me piacciono le cose belle. Mentre su Happiness, ci sono cose molto più raffinate, più sottili, molto carine anche quelle, però magari vedete su di me, ora faccio il capello corto, insomma, io cerco roba un po' così. Quindi, se volete, se vi piace l'azienda, e volete comunque sostenere me, come canale, passando dal mio link affiliato, potete andare a dare un'occhiata, una sbirciatina anche su Hey Happiness. Ultimo sito, consigliato per i vostri acquisti, in cui potete sostenermi, è Pandora, perché da poco ho avuto anche l'affiliazione con Pandora. È conosciutissima, molti vanno nel negozio fisico, ma so anche che tanti di voi, magari, che hanno già un Pandora, allora vanno magari a scegliere il charme particolare, sia per sé, ma anche per farne un regalo. Per esempio, c'è una mia amica, che i suoi genitori, tutti gli anni a Natale, le regalano, almeno uno o due, ciondolini per il braccialetto. Infatti, lei ha 200.000 braccialetti Pandora, pieni di ciondoli. Quindi, niente, se uno sa già, già le idee chiare, sa già cosa vuole, potete andare tramite il mio link, e acquistare sempre su Pandora, con il mio link affiliato. Poi, io qua c'ho scritto un po' di idee. Vediamo un po'. Poi, 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 poi. Ah, ragazzi, i libri. I libri sono sempre un regalo, secondo me, gradito. Ovviamente, se pensate di regalare un libro, io vi consiglio di regalarlo a una persona con cui avete comunque confidenza, una persona che conoscete, che sapete il genere che ama, cosa gli piace, perché se no, rischiate di fare un mega floppone. Cioè, tipo, se a me uno viene e mi regala un libro di Stephen King, cioè, io glielo tiro dietro, quindi, bisogna anche, ecco, per regalare un libro ci vuole anche un certo grado di sensibilità e di conoscenza della persona, in modo da potergli fare il regalo giusto. Allora, a me è sempre piaciuto tanto andare in libreria, perché mi piace l'odore della libreria, mi piace proprio vederli, toccarli, libri, però, devo dire che ultimamente li ho comprati tutti online, anche perché i libri che ho comprato di recente sono libri un pochino più particolari. Io non vivo in una grande città, quindi abbiamo la Mondadori a Montecatini, ma c'è un assortimento, insomma, più normale, Tra virgolette. Quindi, se devo andare alla Mondadori a ordinare libri, che poi mi arrivano dopo due o tre giorni, ci devo tornare a prenderlo, ragazzi, io li prendo su Amazon e faccio prima, quello è poco ma sicuro. Però, ecco, se avete delle belle librerie, io vi invito anche a sostenere le librerie indipendenti. Cioè, se avete nella vostra città delle librerie più particolari, appunto indipendenti, che vi forniscono anche una scelta di libri un po' di nicchia, io vi consiglio di andare a dare una sbirciatina lì, perché so che in questi posti magari anche i librai sono particolarmente appassionati, magari gli descrivete la persona com'è, come non è, e possono anche consigliarvi il libro giusto da regalare. Io vi voglio consigliare un libro soltanto, che però è un libro molto particolare, quindi non lo potete regalare a tutti, però è un libro che a me ha cambiato il modo veramente di vedere certe cose, e l'ho acquistato quest'estate, e l'ho letto quest'estate, infatti ho fatto anche un paio di video qui sul canale, che ovviamente non vanno bene, perché tanto i video sui libri, ragazzi, si sa come vanno, no? Vorrei che cambiasse questa tendenza però, che ci fosse un po' più di interesse anche sull'argomento lettura, e ve ne ho parlato, volevo fare anche altri video su questo libro, però sono video che devo fare quando io sono in stato di grazia, perché comunque è un libro che secondo me trasmette dei messaggi veramente importanti, e per parlarne io devo star bene, se non posso parlare di questo libro in momenti in cui sono un po' sconnessa, no? Quindi è un libro secondo me da regalare a tutti coloro che voi pensiate stiano facendo un percorso interiore, oppure abbiano voglia di iniziare un percorso interiore, perché comunque è un libro adatto a chi inizia, magari chi è già su un cammino lo può trovare anche semplice, ma secondo me non è semplice, è denso e ricco di significato, insomma è un nuovo mondo di Eckhart Tolle, come me ne ho già parlato, quindi quello io ve lo straconsiglio, se volete fare un regalo a una persona che ha voglia di iniziare un percorso di conoscenza, di approfondire un po' di... ma non è crescita personale, non so neanche come definirlo ragazzi, comunque è un libro molto spirituale, filosofico, psicologico, cioè non lo so definire, è veramente un libro che secondo me ti cambia la vita se lo leggi, però deve essere il momento giusto, quindi valutate se conoscete qualcuno a cui potete regalare questo libro, perché secondo me è un regalo meraviglioso, a me è stato regalato, l'avevo messo in wish list, e mi è arrivato proprio un giorno che ne avevo un estremo bisogno, è stato veramente una luce nella mia vita, poi cambiamo argomento, vediamo un po', vediamo un po', ah vabbè i profumi ragazzi, io ora poi sono nella fase dei profumi, regalare un profumo è sempre un classico, ovviamente dovete conoscere un pochino i gusti, vediamo un po' io che cosa mi... ah ecco sì, profumo non solo, ma in profumeria, se puoi andare in profumeria ci sono tante idee, anche cofanetti già pronti, per esempio ora tutti fanno il calendario dell'avvento, io sono stata da Douglas l'altro giorno, ce ne erano per tutti i gusti di calendari dell'avvento, secondo me sono un regalo molto molto carino, io per esempio lo riceverei, mi farebbe molto piacere riceverne uno, e quindi probabilmente se lo regalate a qualcuno appassionato di make-up, di skin care, così sicuramente gli fate un bel regalo, che poi ci sono anche tematici, ci sono quelli dedicati all'aumaspa, ci sono quelli più sul trucco, insomma c'è una scelta infinita, poi i profumi sì, ragazzi ovviamente se conoscete un minimo i gusti olfattivi della persona, perché però ecco ce ne sono veramente, diciamo che un profumo è sempre bello, ora poi insomma ho visto delle confezioni meravigliose, quindi cioè è bello anche da vedere lì esposto, e ovviamente se andate in profumeria, andate in profumeria, se invece avete voglia di scegliervi queste cose comodamente da casa, io vi lascio i miei link affiliati, io ho l'affiliazione con Douglas, con Sephora e con Marion No, quindi potete andare a sbirciare lì, poi ho la mia pagina Amazon, e lì sulla mia pagina Amazon praticamente anche lì c'ho la lista dei profumi, la lista del make up, della skin care, cioè ho tante liste tematiche, che dalle quali potete prendere spunto, quindi vi lascio giù sempre tutti i link, alle profumerie con cui ho l'affiliazione, e anche vi lascerò il link anche alle idee regalo, cioè su Amazon io ho fatto proprio una lista, e ogni volta che vado su Amazon e vedo qualcosa, che dico ah guarda questo potrebbe essere carino per fare un regalo, lo aggiungo a quella lista, quindi diciamo che faccio un po' il lavoro per voi, se voi andate lì potete trovare spunti di ogni genere per fare un regalo a qualcuno, quindi andate a vedere la mia lista idee regalo, poi un'altra cosa che secondo me è tanto 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 apprezzata, sono i regali fatti a mano, cioè se siete capaci di fare qualcosa con le mani, di costruire qualcosa, potreste pensare anche a fare veramente dei regali personalizzati per le amiche, per i parenti, tipo se sapete fare i ferri, se sapete fare l'uncinetto, oppure costruire oggetti per la casa con il legno, oppure se dipingete potete regalare un acquerello con la sua cornice, oppure fare un ritratto, quindi le cose, quello lo sapete voi cosa sapete fare, se voi siete capaci di fare qualcosa, oppure se create gioielli con il fimo, o cose con il fimo, secondo me sono sempre molto apprezzati, almeno da parte mia, sono sempre molto apprezzati i regali fatti home made, quindi ecco pensateci, se c'è qualcosa che sapete fare, ora magari imparare a fare, e fare per Natale siamo già un po' stretti con i tempi, però per esempio ci sono tanti tutorial, ci sono anche dei kit, dei libri che spiegano come fare, quindi su YouTube è pieno di tutorial per uncinetto, ferri, quindi magari comunque io vi lascerò dei link anche qui, sempre con idee di cose da fare, o idee proprio, anche regalare un kit può essere, magari uno può anche dire, ah guarda c'è la mia amica che dice sempre, mi piacerebbe imparare a fare l'unciletto, mi piacerebbe farmi le sciarpe, può essere un'idea carina anche regalare un kit, di quelli già pronti, studiati magari per i principianti, con i ferri, la lana, oppure con l'uncinetto, quindi magari vi lascio giù qualche link, qualche idea in questo senso, sempre su Etsy dove trovate anche il segreto delle rune, magari trovate anche altre cose un po' di tipo artigianale, ma lì comunque si tratta sempre di fare un regalo comprato, io invece sto parlando proprio di un regalo dove lavorate voi, fate qualcosa voi con le vostre mani, oppure dove stimolate la persona a cui fate il regalo a creare qualcosa, il che può essere, ora io vi ho detto il set per fare i ferri, ma può essere anche l'amica o l'amico che dicono sempre, ah mi piacerebbe dipingere, gli potete regalare un blocco da disegno con le matite, oppure gli potete regalare una tela con dei colori ad olio, insomma i pennelli, trovate tutto, anche di queste cose ho selezionato, sia nell'idea e regalo, sia c'è una lista che si chiama creatività mi sembra, e lì ci sono tutte le cosine relative a pittura, e ho scelto solo delle cose che mi sembrano buone di qualità, perché magari andate dal cinese e trovate colori olio a un euro e fanno schifo, quindi ho cercato di selezionare delle cose anche di una qualità decente, ok? Per questo vi dico andate anche a vedere, perché a volte uno dice, ah sì gli prendo questo, gli prendo quello, però poi alla fine, cioè se gli regali della roba di scarsa qualità, e uno già non sa dipingere, vi assicuro che anche per iniziare a dipingere bisogna avere del materiale adeguato, perché altrimenti se il materiale non aiuta diventa veramente tanto tanto difficile. Poi, vediamo un po' cosa mi sono appuntata, ah la creta è un'altra cosa, per esempio se uno ha voglia di impastrocchiare un po' con le mani, potete regalare della creta con i materiali apposti, magari anche un librino che spiega un po' come fare. Poi, ah ecco mi ero scritta anche questa, andiamo a cose anche molto terra terra, per esempio potete regalare anche delle carte, dei buoni spesa, lo so che non è bello, però dei buoni spesa per il supermercato, oppure un buono regalo su Amazon, che sono graditi perché magari uno ha questo buono regalo e se lo spende in quello che gli serve, oppure per esempio i voucher, quelli per i trattamenti benessere, in un centro benessere ormai li fanno quasi tutti, le spy, gli alberghi, tutti fanno queste cose, quindi potete regalare anche un weekend, oppure un appunto un massaggio, un trattamento benessere, sia dall'estetista, insomma anche nella vostra zona sicuramente troverete qualcosa, se avete l'amica che ama i massaggi, li potete regalare un bel massaggio, oppure un abbonamento in palestra, che ora piano piano stanno riaprendo, anche se vabbè stanno riaprendo i cinema, i teatri, quindi potete regalare un abbonamento a teatro, oppure anche semplicemente se un abbonamento è troppo costoso, potete regalare proprio una serata al cinema, una serata a teatro, insomma può essere carino anche questo, oppure anche un abbonamento a Netflix, oppure ad Amazon Prime, per esempio io ho tutti e due, e infatti mio marito ed io sinceramente la tv normale non la guardiamo più, perché è troppo comodo avere Netflix e Amazon per guardare film e serie tv, Netflix abbiamo quella base noi, e guardiamo molte serie tv e anche qualche film, e poi con Amazon Prime, non ho Prime Video, ho Amazon Prime base, ma ci sono compresi un'infinità di film e di serie tv, che io guardo, e anche film se ne è guardato uno l'altra sera, molto molto carino, tra l'altro finalmente ci sono anche, soprattutto su Amazon più che su Netflix, ci sono anche tanti film proprio italiani, noi adoriamo le commedie italiane, quindi spesso ecco i film è più facile che li guardiamo su Amazon che su Netflix, quindi ora così su due piedi non mi viene in mente altro, mi sembra di avervi dato un po' di idee, avevo dimenticato del cuscino antirughe, quello che mi è arrivato in omaggio dall'azienda Omia, quindi anche quello può essere un'ottima idea regalo, molto particolare, che poi con il mio codice sconto ci avete 10 euro di sconto. Fatemi sapere se vi sono stata utile, se le idee che vi ho buttato là vi possono servire, e poi appunto se comprerete su online, vi farete un favore enorme se passate dai miei link, perché comunque, vi ripeto, tutto fa. Io vi mando un bacione grosso, 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 e vi do appuntamento sempre qui su Monica Vlog, oppure se vi volete rilassare, vi aspetto su Arasulè ASMR. Ciao!